Insomma, in quei cinque anni di PNRR, con quei 200 miliardi di euro che sono lì allocati, c'è il piano e il progetto per fare dell'Italia un paese grande, moderno, unito e ambientalmente compatibile. Noi dobbiamo soltanto usarli, quei soldi, dobbiamo usarli senza mettersi a perdere tempo in assurde forme di rinegoziazione. E se io faccio l'elenco della serie di annunci di temporali che Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno cominciato a lanciare nei confronti dell'Unione Europea, è evidente che da parte loro c'è una volontà di attaccar briga con Bruxelles e con l'Unione Europea, che è foriera solamente, in caso di una loro vittoria, di temporali ma soprattutto di una situazione molto complicata per il nostro paese. Ecco perché noi diciamo con grande nettezza, siamo noi gli unici che possono assicurare al nostro paese di continuare sulla linea della crescita, di una crescita inclusiva, di una crescita equilibrata in tutte le aree del paese e soprattutto della buona applicazione dei soldi del PNRR. Grazie. Grazie.